Claudio Pazzaglia, direttore della CNA Bologna, siamo campioni d'Europa, questa è una soddisfazione, chiaramente diciamo un po' di offerio, un po' di entusiasmo, che è giusto, che ci vuole, il nostro paese dimostra in tante situazioni ovviamente sempre di ripartire, di avere grandi grinte e passione. Siamo a ridosso di una nuova estate, quindi è passato un altro anno dall'estate dell'anno scorso, siamo finiti in mezzo ad una terza ondata, ha tante situazioni che sono cambiate, lo stato di salute degli artigiani? Lo stato di salute è buono, almeno dei segnali che noi abbiamo, a parte alcuni settori che non hanno potuto riprendere ancora l'attività, che stiamo legati al mondo del divertimento, diciamo, quindi parliamo delle discoteche, le serate, eccetera, eccetera, al chiuso, per il resto le attività hanno ripreso in maniera anche, per certi aspetti, anche entusiasmante, devo dire la verità. Fra l'altro anche noi abbiamo fatto un congresso recentemente, un po' in maniera coraggiosa, che era quella in presenza, quindi è andata bene, e quindi era un primo segnale di ripresa. Abbiamo visto che alcune iniziative le stiamo riprendendo, anche quelle storiche che abbiamo fatto sempre, esempio gli acconciatori in strada, faremo un'iniziativa il 18 di luglio, quindi c'è voglia di tornare tutti assieme. E' vero che questa voglia, poi i conti li faremo economicamente alla fine di questo anno, vediamo come è andata l'attività, vediamo se i fatturati sono effettivamente risaliti, se effettivamente i guadagni sono stati sufficienti. Una fase di difficoltà l'abbiamo avuta nella ripresa delle attività economiche, quelle manifatturiere e quelle dell'installazione di piante edilizie, con il boom del 110% e mille altre attività connesse, che sono questa pressione sui prezzi a monte delle materie prime e della ricerca, adesso ancora in risolta, delle maestranze per realizzare poi queste opere e così via. E quindi c'è sempre alcuni segnali di sottofondo che rimangono sempre irrisolti, cioè la fornitura delle materie prime, il controllo dei prezzi, le maestranze che si dedicano ai lavori artigianali, che sono ancora visti culturalmente ancora come attività di serie B in realtà. Poi anche per i lavori stagionali, un po' di difficoltà nel mondo della ristorazione, dei bar, delle somministrazioni, alimenti di bevande e così via, ci sono dei problemi, però la fine della pandemia non è ancora così vicina, perché comunque i risultati li vedremo alla fine delle vaccinazioni, cioè se arriviamo effettivamente all'80% della copertura vaccinale di tutti i cittadini oltre 12 anni. Poi si può parlare del problema, adesso a settembre la scuola si apre o non apre, se li vacciniamo i 12 anni o meno, quindi abbiamo anche questo trip, questo viaggio da fare, però siamo in una fase positiva di attenzione. Chiaramente non dimentichiamo che siamo in zona bianca, se vogliamo rimanere in zona bianca bisogna avere dei parametri che siano rispettati. Ecco il tema è quello che ultimamente quando qualcuno ha parlato di nuove restrizioni, di zona gialla, che una volta ci sembrava il grande miraggio poter arrivare in zona gialla, ora ci siamo molto abituati alla zona bianca e temiamo giustamente la zona gialla. C'è un tema di vaccinazioni, che effettivamente diciamo c'è questi over 60 che sembrano essere un po' sfuggiti dai radar e anche altri. Il tema delle vaccinazioni però CNA ha sempre spinto molto ovviamente perché ci si vaccinasse, ha dato disponibilità per fare questi hub aziendali, quindi l'impegno c'è stato però la risposta non sempre è stata quella che ci si attendeva. C'è stato fino a un mese e mezzo fa, circa verso la fine di maggio c'era questa richiesta continua dove andiamo a vaccinarci, bisogna che apriamo, facciamo, abbiamo pensato anche noi come sistema CNA di aprire il nostro hub qui presso l'attore CNA, poi la burocrazia, le complicazioni, il fatto dell'ingaggio come andava fatto non ci ha permesso di lanciarci questi hub. In realtà gli hub vaccinali privati accompagnano gli hub vaccinali pubblici che sono in Emilia Romagna super efficienti, quindi già l'offerta pubblica era più che sufficiente per la vaccinazione. Oggi ci troviamo nella bizzarria di avere scorte di vaccini inutilizzate e quindi il povero figliuolo prima doveva fornire tutti i giorni quantitativi perché non ci stiamo dietro, eccetera eccetera. Adesso dobbiamo ritornare indietro a vedere quanti vaccini sono depositati presso le regioni, quanti devono tornare indietro, chi devono essere distribuiti. E poi siamo arrivati al fondo della quantità delle persone a vaccinare dove tocchiamo quelli che sono non i Novax, gli scettici, quelli che stanno un po' alla finestra, quelli che stanno attendendo, quelli che dicono intanto c'è l'immunità di Greggio e si raggiunge tramite gli altri, non mi succederà niente e io auguro che non succeda più niente a nessuno, siamo arrivati a 128.000 morti, è vero che tutti i giorni diciamo sono 12, 13, 24 rispetto ai 500, però la fine fa 128.000 e quindi bisogna che noi ci prepariamo ad essere pronti a un'eventuale ulteriore restrizione in base all'andamento pandemico di settembre, ottobre, novembre, sperando di non ritornare nei venerdì del CTS che ci dice adesso cosa facciamo lunedì e così via. Contestualmente le misure economiche del governo che sono passate un po' sotto traccia. Perché sono arrivati una sbaraccata di soldi? Sì, ma in realtà sono rimasti anche tantissime risorse non distribuite perché la richiesta da parte degli imprenditori, abbiamo visto con gli ammortizzatori sociali che il tiraggio è stato 5 miliardi e mezzo di ore, in realtà poi l'utilizzo di questi 5 miliardi e mezzo di ore è arrivato appunto del 40, 50, 60% quindi non sono stati usati tutti gli ammortizzatori, siamo stati un paese previdente, abbiamo chiesto tutti gli ammortizzatori, poi li abbiamo usati che è un segnale positivo, vuol dire che il lavoro comunque c'è stato, che il mercato ha resistito. Dall'altra parte gli aiuti, quelli sostegni 1 e sostegni 2, rimangono risorse per 6-7 miliardi non distribuite che non verranno richieste perché i criteri, se ricordiamo, erano molto severi, più del 30% di perdita sulla base mensile in un anno, in realtà verranno probabilmente redistribuiti per altri obiettivi che ci sono attività ancora che devono riprendere, tutto il mondo delle cerimonie e gli eventi, il wedding, i matrimoni, sono in grande crisi. Quindi vedremo un po' la distribuzione, però è passato in secondo piano l'emergenza, siamo un paese, come posso dire, entusiasmante da questo punto di vista, siamo passati da una crisi mistica di aprile e maggio a una liberalizzazione del mercato dove l'imprenditore ha dimostrato che non ha bisogno degli aiuti pubblici e avvetevamente aveva voglia di riaprire, di avere libertà. Per mantenere questa apertura però stiamo attenti che è sempre la sommatoria di un virus del quale le varianti, io non sono un esperto, però significa che il virus si adatta all'andamento dell'essere biologico che vuole attaccare anche l'uomo e quindi via via trova delle soluzioni per potersi insediare nel corpo umano. Poi la vaccinazione mondiale è l'altro tema, ma questo è un tema che vedremo più avanti quando riusciremo a fare in modo che l'Africa abbia tutti i suoi vaccini, perché non dimentichiamo che la pandemia circoli indipendentemente dai confini, non ci sono le barriere nel Mediterraneo per impedire l'arrivo del virus. Quindi siamo in una fase positiva, noi come artigianate e piccole imprese speriamo che ci sia la ripresa delle aperture delle PMI e delle piccole imprese che in questo anno è un po' anche i giovani di riprendere l'entusiasmo, abbiamo bisogno di fare il ricambio generazionale in tante imprese, abbiamo bisogno che le imprese che hanno chiuso vengano sostituite da loro imprese più digitalizzate, più moderne e così via, però abbiamo bisogno di riprendere un po' quel solco della difesa della microimpresa di prossimità, che non dimentichiamo che il deserto un domani bisogna prevenirlo, il deserto delle attività di prossimità. C'è poi il tema del recovery, come diceva Pazzaglia, gli imprenditori e gli artigiani hanno voglia di lavorare, non vogliono solamente aiuti, certo vogliono essere sostenuti, però lavorare, adesso c'è il grande tema che anche Bologna, città metropolitana, anche qui arriveranno miliardi di euro su questo tema, quindi voi siete pronti a prenderli? Siamo pronti a prenderli, la gestione del PNR è pubblica, quindi adesso devono ancora definire qual è la cabina di regia, sembrano cose secondarie, però hanno dovuto fare un decreto apposito perché com'è la cabina di regia, c'è il governo, ci sono i ministri, ci sono le regioni, ci sono i ministeri, ci sono gli staff, ci vogliono essere anche i comuni, quelli di grandi dimensioni, le città metropolitane, poi e chi ne ha più ne metta. Quindi saremo pronti, siamo pronti se buona parte delle misure che verranno messe in campo prevedono anche il coinvolgimento della piccola, media e grande impresa nella coprogettazione, perché non perché non ci fidiamo degli enti pubblici, però è meglio partecipare anche a questi tavoli. Soprire alle coprogettazioni, cioè sapere, ma non solo come coprogettare, ma anche cofinanziare, perché la leva pubblica può muovere anche una leva privata in un interesse collettivo, quindi può muovere anche molte risorse private, Visco l'altro giorno parlava di 400 miliardi di depositi delle imprese che hanno in tesoreria in attesa di far quali investimenti, i 900 miliardi dei cittadini che sono lì in attesa e così via. Però è chiaro che noi sappiamo che questi risparmi sono, i risparmi io li investo se ho una prospettiva di medio-lungo periodo di ritorno degli investimenti. Quindi io credo che, adesso all'inizio agosto arrivano i primi 25 miliardi, perché la Bond Alliance ha promosso grandi progetti, grande piano, sono 700 pagine, non so se lo sai, ma per rispondere al nostro piano del 360 il commissario europeo ha scritto una relazione positiva di 670 pagine, quasi il doppio. Quasi il doppio, quindi alla fine siamo promossi, siamo in una fase veramente tutto favorevole, è vero che il campionato europeo di ieri sera ci dà una spinta ancora più entusiasmante, però non dimentichiamo che questo campionato del PNRR finirà nel 2026, se siamo riusciti a mettere tutti i progetti in linea che sono partiti perché verremo controllati da questo punto di vista, però io sono fiducioso perché l'Italia è un paese veramente pieno di risorse e questo anno e mezzo, al di là delle critiche così via, si può sintetizzare che è un paese che ha sempre la capacità di riprendersi e di reagire, quindi è un bene che l'Italia sia anche il campione d'Europa, non solo nel calcio. Allora in chiusura, nuovo presidente di CNA Bologna, che abbiamo anche intervistato per TV Bologna, è il nuovo presidente? Nuovo presidente, sì, vicario per 4 anni di Veronesi, ha partecipato, ha fatto tutto il suo curriculum dal basso, quindi è il presidente di un'area territoriale, presidente in alcuni comitati, ha partecipato a CNA Industria, ha fatto il vicario di Valerio Veronesi e quindi è il compimento di una continuità anche dal punto di vista progettuale che la presidenza Veronesi insieme a Gramuglia hanno portato avanti, quella della partecipazione vera degli imprenditori alla vita associativa, al controllo vero dell'associazione, nel senso di poter sapere come va, come non va, cosa si rappresenta, dialogare con la politica, dialogare con le altre organizzazioni, quindi un presidente che sul suo occhio di Veronesi, integrato al sistema, abbiamo allargato la rappresentanza associativa in questo congresso che ha portato ad avere un'assemblea elettiva di 140 imprenditori, abbiamo 140 imprenditori tutti impegnati negli organi dirigenziali, abbiamo 45 mestieri, quindi molta lobby parcellizzata, quindi anche attività un po' più complicate dal punto di vista della rappresentanza politica, perché andiamo dalla rappresentanza di gruppi di imprese che sono 50 imprese a 500 imprese, quindi non una rivoluzione ma una continuità nella rappresentanza, perché la lobby bisogna farla e l'abbiamo imparato mestiere per mestiere, filiera per filiera e tutto il resto. Posso dire che sul tema alternanza scuola-lavoro vogliamo parlare di connessione scuola-lavoro, Gramuglia è un imprenditore che ha una piccola impresa con 30-40 dipendenti, quindi rappresenta al meglio il tema nostro dell'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, cosa fare per trovare maestranze che vengano a lavorare nella piccola impresa e credo che sarà un Presidente che darà più ampio rispiro all'associazionismo, tenuto conto che l'associazionismo rimane sempre là in fondo, come i corpi intermedi, un tema ancora da risolvere, cioè se servono ancora, se la politica i partiti lo vogliono ancora, se il Parlamento ritiene ancora necessario l'intermediazione dell'associazionismo, noi riteniamo di sì, noi riteniamo che gli imprenditori ne abbiano voglia di associazionismo, spero che sia un quadriennio, questo primo quadriennio, che porti a una più efficacia, non più visibilità perché la CNA è abbastanza visibile, porti una più efficacia delle azioni nei confronti anche della politica, ci sono le elezioni imminente e quindi c'è già un primo... Aspettiamo anche il candidato del centrodestra e sperando che la visita dei rappresentanti nazionali del centrodestra trovino poi questo rappresentante di modo che si dialoghi, poi continueremo nel filone della solidarietà fra gli imprenditori, fare rete, stare assieme, la solidarietà verso gli imprenditori perché c'è anche emarginazione fra gli imprenditori, non sono tutti miliardari gli imprenditori, hanno bisogno anche loro di essere sostenuti e in collaborazione assieme a tutte le altre parti sociali che qui a Bologna non mancano, quindi c'è un bel tavolo insieme per il lavoro, ci sono dei grandi tavoli, è un terreno fertile quello che vogliamo continuare a alimentare. Bene, grazie Claudio Pazzaglia davvero e buon lavoro. Grazie a voi.